Io mi presento, mi chiamo Francesca Cortellaro, vengo da Milano, lavoro all'ospedale di Niguarda e mi occupo di ecografia in urgenza da più o meno 15 anni. In questo momento rappresento la società di medicina di emergenza urgenza, la Simeu, con la quale abbiamo costruito insieme una serie di corsi, sia sull'ecografia in emergenza urgenza che corsi monotematici. Questo sul polmone è un corso che esiste da un paio di anni, l'ecografia toracopolmonare è la novità di questi ultimi anni e che si applica bene non soltanto nel mondo dell'urgenza, ma motivo per cui penso anche i cardiologi sono qui, in ambito cardiologico, in ambito pneumologico, è molto avvincente anche per i nefrologi, per i pediatri, per i rianimatori, quindi è un corso trasversale. Abbiamo cercato di adattare il programma che normalmente facciamo più all'interesse ovviamente internistico e cardiologico, quindi non parleremo di trauma e di pediatria, però è importante sapere che queste sono applicazioni che stanno crescendo in modo esponenziale. Se guardate su PubMed il numero di pubblicazioni di ecotoraco polmonare, più o meno esce una media di 5-6 articoli alla settimana, quindi è veramente una cosa esplosiva, pur non essendo ancora recepita questa cosa, sia a livello di linee guida, come vedremo nel corso, che anche a livello, si possiamo dire, di testi sacri, perché ancora oggi sull'Harrison ultima edizione si legge che il polmone in realtà si può studiare solamente per quanto riguarda la patologia pleurica, e vedremo che in realtà non è assolutamente così. Quindi vi do il benvenuto e interrompeteci, questo è un corso interattivo, quindi vogliamo darvi delle informazioni teoriche, ma poi faremo delle esercitazioni pratiche sui modelli sani e nel pomeriggio dei casi clinici. Lo scopo quindi è di portare a casa una metodica che come vedrete di grosso impatto è anche molto semplice per alcune cose da acquisire. Adesso lascio la parola ai padroni di casa, per Zappalà. Grazie, buongiorno a tutti. La dottoressa Cortellaro già vi ha detto l'importanza dell'ecotorace, oramai la semiotica è cambiata, per cui bisogna approcciare al paziente attraverso l'uso dell'ecografia, non se ne può fare più o meno. Purtroppo ancora questa metodica non è entrata nell'uso comune, quotidiano, cosa che dovrebbe essere, perché il malato deve essere visitato, oramai non è più possibile, se dobbiamo visitarlo attraverso l'ecografia. Noi siamo qui da circa dieci anni che portiamo avanti il corso di formazione di ecografia base e che abbiamo realizzato circa otto anni fa e stiamo portando avanti questo progetto per far sì che tutti quanti possono prendere questa metodica come metodica di studio e di valutazione. Adesso la presentazione ce la siamo fatti, iniziamo velocemente, perché siamo già tardi col programma, in modo che possiamo avere tutti quanti l'idea che oramai l'ecografia, in particolare questo monotinale del torace, deve essere indispensabile, deve essere di uso quotidiano del medico che approccia il paziente. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora apro io le lezioni della mattinata per parlare innanzitutto di fisica degli ultrasoni, ultrasoni, argomento per il quale appena si inizia un corso di ecografia il 50% abbandona, perché è un argomento abbastanza noioso. Ma io cercherò di essere rapidissimo e di darvi concetti che occorrono appunto per la valutazione dell'ecografia del torace. Sapete che l'ecografia è una tecnica di diagnostica per immagini non invasiva, sfrutta un'energia di tipo meccanico, attraverso una sonda o trasduttore noi inviamo nel corpo umano un fascio di ultrasoni, il corpo umano risponde a questo fascio di ultrasoni con degli echi riflessi, gli echi riflessi vengono catturati dalla stessa sonda che quindi funziona da emissione di ultrasoni e da ricevitore di echi riflessi e vengono trasformati sullo schermo di un oscilloscopio in tanti punti luminosi, come vedete dal bianco al nero, attraverso tutta una gradazione di grigi che rappresenta esattamente la sezione di tessuto, la sezione di distretto anatomico che noi stiamo studiando in quel momento. Gli ultrasuoni sono dei suoni particolari, sapete che per produrre un suono abbiamo bisogno di un oggetto vibrante, l'esempio tipico sono le mie corde vocali che in questo momento vibrano lungo la colonna aerea tra che bronchiale e ne risulta un suono che viene recepito dal vostro udito, ma analogamente si può parlare per le corde di una chitarra, di un violino o per le lame di un diapason. Per produrre degli ultrasuoni noi utilizziamo una particolare proprietà di alcuni cristalli. Vedete, se io applico a dei cristalli una corrente elettrica, maggiore la corrente elettrica, maggiore è la vibrazione del mio cristallo. E in realtà le nostre sonde ecografiche, i nostri trasduttori, non sono altro che, come vedete, delle strutture che contengono nella parte che esponiamo sul corpo del paziente una filiera di cristalli e il filo bianco che lega praticamente la sonda al nostro corpo macchina non è altro che un filo che trasporta l'energia elettrica per attivare questi cristalli. Questo effetto si chiama effetto piezoelettrico, cioè la capacità che hanno alcuni cristalli di trasformare l'energia elettrica in energia meccanica. L'unità di misura dei nostri suoni si chiama Hertz ed è il corrispettivo della frequenza. Che cosa significa? Significa che il numero di volte che il mio oggetto vibra nell'unità di tempo corrisponde esattamente alla frequenza. Il mio oggetto vibra una volta in un secondo, la frequenza di questo suono è un Hertz. Vibra dieci volte in un secondo, la frequenza di questo suono è dieci Hertz. Vedete che il corpo umano, l'uomo, è in grado di riconoscere dei suoni che variano da 20 Hertz a 20.000 Hertz. Quindi oggetti che vibrino fino a 20.000 volte in un secondo. E quindi per definizione, noi definiamo ultrasuono qualsiasi suono il cui oggetto vibrante sia prodotto da una sorgente che vibra al di sopra delle 20.000 volte in un secondo. In realtà però in campo diagnostico noi usiamo praticamente delle frequenze veramente molto alte. Quello MHZ sta per milioni di Hertz. Significa che noi utilizziamo delle sonde i cui cristalli vibrano dai 2 milioni ai 20 milioni di volte in un secondo. Ovviamente sono suoni non udibili dall'orecchio umano ma solo da alcune specie animali. E allora il primo problema che ci dobbiamo porre è come faccio io a scegliere tra le diverse sonde disponibili quale frequenza devo utilizzare. Lo possiamo fare se riconosciamo due proprietà del fascio ultrasonoro. Una prima proprietà è la risoluzione. Risoluzione significa la capacità che il mio fascio di ultrasoni ha di vedere dei punti molto vicini e molto piccoli in maniera molto precisa. Come vedete dal grafico questa proprietà è direttamente proporzionale alla frequenza. Cioè se io voglio ottenere un fascio di ultrasoni ad alta risoluzione devo utilizzare frequenze estremamente elevate. Il gioco è fatto, sarebbe semplice utilizziamo sempre le frequenze più elevate. Ma in realtà, come vedete da questa animazione se io aumento la frequenza di una sonda ecografica si riduce la penetrazione. Quindi che cosa significa? Che è vero che io voglio lavorare con sonde ad alta frequenza per ottimizzare la risoluzione ma non lo posso fare perché devo tenere conto anche della penetrazione. E allora è evidente che se io devo studiare per esempio il cuore in un soggetto obeso avrò la necessità di usare frequenze più basse che però mi assicurano e mi garantiscano la penetrazione diciamo adeguata. posso via via aumentare le mie frequenze man mano che passo nel cuore di un orlopotipo fegato e reni fino ad utilizzare praticamente frequenze estremamente elevate per quegli organi che sono disposti superficialmente. nel campo diagnostico come vedete noi utilizziamo prevalentemente sonde a bassa frequenza 2 milioni 2 milioni e mezzo di hertz per studiare cuore a orte e vasirenali sonde da 3 e 5 milioni di hertz per studiare l'addome e il torace in particolare la base del torace alla ricerca dei versamenti pleurici e sonde ad elevatissima frequenza fino a 10 megahertz per studiare la parete toracica. vedrete nella parte pratica come per lo studio per esempio della parete toracica e della linea pleurica che è la cosa fondamentale da riconoscere in ecografia toracica utilizzeremo sempre sonde ad elevata frequenza. Ho la mia sonda ho il mio fascio di ultrasoni lo invio nel corpo umano vedete che l'energia ultrasonora si attenua progressivamente e questo è un fatto abbastanza chiaro se la mia voce non è ascoltata a 200 metri di distanza perché l'energia sonora della mia voce si attenua in funzione della distanza ma l'attenuazione è anche legata al fatto che ogni volta che il mio fascio di ultrasoni incontra delle superfici di separazione tra organi ad impedenza differente ci sono delle riflessioni si ottengono cioè tante riflessioni quanto sono le superfici di separazione tra due organi differenti e come vedete nonostante le leggi che regolano i meccanismi di riflessione siano complesse per comprendere l'ecografia noi abbiamo bisogno di riconoscere tre diciamo fondamentali vie di riflessione la via che ci interesserebbe sempre di più è questa il mio fascio di ultrasuoni insona in maniera perfettamente perpendicolare una superficie liscia qui ovviamente abbiamo il massimo della riflessione ma ovviamente nel corpo umano non c'è sempre questa condizione diciamo ideale nel corpo umano ci troviamo di fronte spesso a interfacce lisce regolari ma curve e qui vedete ci sono dei fenomeni tanto di diffusione del fascio ultrasonoro quanto di riflessione del fascio ultrasonoro ma se voi tenete presente la singola unità cellulare con i suoi organoli è evidente che la condizione nella quale il fascio di ultrasuoni si trova a lavorare più frequentemente è quello di interfacce molto irregolari e molto spigolose questo crea prevalentemente dei meccanismi di diffusione con scarsissima riflessione verso la sonda vi ho dato queste tre modalità perché come vedrete queste tre modalità sono alla base delle immagini ecografiche fondamentali che troveremo in qualsiasi nostro esame ecografico che cosa fa l'ecografo? L'ecografo non è capace altro che di identificare precisamente il tempo a cui arriva un eco alla macchina ma siccome noi sappiamo che nei tessuti molli il fascio di ultrasuoni viaggia ad una velocità più o meno costante 1540 metri al secondo dal tempo diciamo di arrivo dell'eco e dalla velocità che è un fattore noto noi ricaviamo lo spazio in realtà la macchina mette in uno spazio ben definito che corrisponde esattamente allo spazio anatomico da cui quell'eco proviene e dà praticamente all'eco una intensità che è proporzionale all'energia ultrasonora che viene riflessa in altri termini darà un'immagine bianca molto ecogena per quegli echi che arrivano con grossa energia darà un'immagine grigia ipoecogena per tutti quegli echi che arrivano ad intensità e ad energia intermedia e darà assolutamente un'immagine di nero in termini ecografici parliamo di anecogeno per tutte quelle strutture che non determinano assolutamente una riflessione del fascio ultrasonoro in altri termini la mia immagine ecografica schematizzata è questa che cosa ci dice questa immagine ecografica ci dice che noi ci troviamo ad osservare più o meno a tre centimetri dal piano cutaneo una struttura che è fortemente riflettente cioè porta verso la sonda un'elevata energia ultrasonora vedete che questa struttura circonda una zona centrale in cui non arrivano echi riflessi perché appare nera e il tutto è immerso in una matrice grigia cioè in una struttura la cui intensità di ecoriflessione è intermedia questa è la rappresentazione iconografica diciamo schematizzata per esempio di una formazione cistica all'interno di un parenchima la parete della cisti è molto ecoriflettente molto ecogena il liquido che è contenuto nella cisti e questo concetto diciamo sarà un concetto fondamentale tutto ciò che è liquido in ecografia è anecogeno appare nero il liquido quindi contenuto nella cisti è nero e questa cisti è immersa all'interno di un parenchima la cui intensità di ecoriflessione è intermedia quindi il parenchima appare grigio abbiamo tre tipi di sonde in ecografia sonde settoriali convex e lineari la sonda settoriale come vedete è una sonda con una base d'appoggio molto stretta è la sonda preferita dai cardiologi perché ovviamente ben si inserisce all'interno degli spazi intercostali che sono abbastanza stretti da una morfologia triangolariforme con un campo di vista iniziale molto ristretto che si allarga in profondità ed è come vedete la sonda preferita dal cardiologo la seconda sonda è la sonda curvilinea o convex ovviamente l'immagine vi chiarisce perché si chiama curvilinea la superficie di appoggio è convessa è molto utilizzata nell'addome perché ben si adatta sulla convessità addominale ma come vedrete è utilizzata molto frequentemente anche per lo studio della base toracica e quindi dei versamenti pleurici la terza sonda è la sonda lineare da un'immagine di tipo rettangolariforme con un campo di vista iniziale uguale al campo di vista distale ed è di solito le sonde lineari sono sonde ad elevata frequenza sono sonde che si utilizzano per lo studio degli organi superficiali ed è la sonda più adatta per studiare la parete toracica ed in particolare per riconoscere la linea pleurica ora per capire un'immagine ecografica noi dobbiamo conoscere molto bene quelle che sono le immagini ecografiche fondamentali e conoscere molto bene gli artefatti gli artefatti in particolare sono un capitolo estremamente importante perché come imparerete dall'anatomia e come imparerete anche dalle esercitazioni un torace normale è essenzialmente una immagine artefattuale che cosa sono queste immagini sono le linee i punti e gli spazi neri le linee sono quelle immagini che si verificano ecograficamente essenzialmente per il meccanismo della riflessione appaiono come delle linee diciamo orizzontali bianche molto ecogene il cui meccanismo di formazione è legato prevalentemente al meccanismo della riflessione i punti sono delle strutture che appaiono in grigio hanno un meccanismo di formazione legato essenzialmente al meccanismo della diffusione e di solito sono indicative di strutture la cui intensità degli echiriflessi è di intensità intermedia gli spazi appaiono come dei neri dei vuoti acustici e sono sostanzialmente riferibili a strutture che non riflettono gli ultrasuoni in altri termini i liquidi che non riflettono gli ultrasuoni appaiono neri facciamo qualche esempio che sonda sto utilizzando ragazzi una settoriale vedete un'immagine triangola di forme diciamo punto iniziale molto stretto si allarga progressivamente in profondità allora vi chiedo secondo voi questa immagine qui nera che cos'è è un vuoto vero è un vuoto questa immagine qui che cos'è è del grigio vero quindi è un'immagine grigia questa immagine bianca qui che cos'è è un'immagine di parete ma noi riconosciamo esattamente l'anatomia di questa struttura se oltre a riconoscere le immagini ecografiche fondamentali che vi ricordo sono il nero il vuoto il grigio il tessuto e il bianco la parete conosciamo anche l'anatomia di questa regione e allora come potete vedere questo nero non è altro che la rappresentazione anatomica normale del ventricolo sinistro il sangue è liquido contenuto nel cuore appare nero questa immagine bianca non è altro che un'immagine di parete la parete pericardica questa immagine grigia non è altra che l'immagine di un tessuto il normale setto interventricolare e questa immagine anecogena nera è la normale rappresentazione della orta ma passando in un campo che mi è più familiare questo è il fegato voi vedete sono con una sonda di che tipo una convex in addome anche qui voi vedete rappresentate delle immagini di grigio delle immagini di nero e delle immagini di parete il nero il grigio è la rappresentazione normale del tessuto epatico il nero è la rappresentazione normale della vena porta la rappresentazione normale della vena cava e l'immagine che vedete di parete molto ecogena è la normale rappresentazione del diaframma ma se conosciamo le immagini ecografiche fondamentali e l'anatomia noi siamo in grado anche di riconoscere il patologico sono sempre con una sonda convex sono in fianco destro e come vedete qui ho due strutture grigie una prima struttura che è la rappresentazione ecografica del fegato e una seconda che è la rappresentazione ecografica del rene ma tra fegato e rene vi è una struttura che normalmente non esiste nel normale una struttura nera e se questo paziente ha avuto per esempio un trauma addominale o come nel caso specifico ha fatto una biopsia epatica questo nero che normalmente si raccoglie tra il fegato ed il rene non è altro che del liquido in uno spazio anatomico la tasca di Morrison in cui si raccoglie il versamento addominale quindi non è altro che un'immagine di emoperitoneo traumatico gli artefatti perché sono importanti gli artefatti perché come vedrete sono molti gli artefatti in ecografia ma quelli che ci interessano per comprendere il torace sono essenzialmente tre l'ombra acustica il rinforzo di parete posteriore e gli artefatti da riverberazione che sono stati chiamati in vari modi ma che direi è buona norma chiamare artefatti da riverberazione vediamoli una alla volta che cos'è il cono d'ombra posteriore se io ho una formazione nella quale l'energia riflessa ultrasonografica è molto elevata quindi una struttura ad alta impedenza acustica che riflette tutti gli ultrasuoni vedete che dietro l'energia ultrasonora non passa e avrete questo artefatto che si chiama cono d'ombra un fascio nero dietro a una struttura molto ecogena tutti voi riconoscete questa immagine che cos'è? che cos'è? un calcolo in colecisti ma perché riconosciamo il calcolo? perché noi riconosciamo l'artefatto al di dietro del calcolo cioè il cono d'ombra posteriore e allora vedete il nero della colecisti il grigio del fegato l'immagine di parete del calcolo e l'artefatto posteriore il cono d'ombra posteriore il cono d'ombra posteriore si genera sempre dietro a strutture fortemente riflettenti nel torace le strutture fortemente riflettenti sono le ossa quindi ovviamente se noi poniamo una sonda di tipo lineare sulla parete toracica immediatamente visualizziamo l'immagine ecogena della costola e dietro la costola il cono d'ombra posteriore il rinforzo posteriore è l'opposto del cono d'ombra posteriore in pratica quando una struttura liquida viene attraversata da un fascio di ultrasuoni il fascio non viene attenuato passa senza essere riflesso all'interno della struttura liquida e dietro la struttura liquida si generano degli echi molto amplificati qui vedete un'immagine all'interno di un parenchima questo è il fegato vedete l'immagine a contenuto liquido vedete che dietro la formazione a contenuto liquido l'intensità degli echi è nettamente superiore all'intensità degli echi che sono presenti perifericamente alla formazione a contenuto liquido e infine c'è il terzo artefatto molto importante l'artefatto da riverberazione si genera ogni volta che il fascio di ultrasuoni incontra delle superfici fortemente riflettenti e si genera ogni volta che il fascio di ultrasuoni incontra l'aria in particolare ma si verifica anche quando il fascio di ultrasuoni incontra una struttura come in questo caso ad alta capacità riflessiva come riflettente come l'osso che cosa succede? succede che per effetto diciamo del rimbalzo continuo degli echi tra la superficie fortemente riflettente e la sonda si generano una serie di echi che poiché arrivano al fascio di ultrasuoni in tempi sempre maggiori la macchina interpreta come se provenissero da più lontano quindi mette dietro l'eco che ha generato diciamo l'eco principale quindi la corticale dell'osso una serie di echi orizzontali e paralleli all'eco principale che riproducono esattamente come uno specchio l'immagine della corticale ossea al di dietro della corticale ossea si generano cioè tante linee orizzontali e parallele che si chiamano appunto artefatti da riverberazione e sono abbastanza tipici come vedete anche diciamo dell'aria come vedremo dopo in soldoni quello che noi dobbiamo ricordare che tutto ciò che è liquido in ecografia appare nero tutto ciò che è tessutale e solido appare grigio e le superfici fortemente riflettenti come l'aria o anche l'osso appaiono come delle immagini di pareti molto ecogene con artefatti da riverberazione posteriori e allora vedete che qui abbiamo delle immagini di nero siamo in condizioni fisiologiche ma anche patologiche queste immagini di nero che vedete qui giù è una vescica piena di urina queste immagini di nero che vedete qui è la vena cava inferiore ma questa immagine che vedete nera qui è un'immagine patologica sono con una sonda sul torace ed il liquido nel cavo pleurico appare nero così come il liquido nel cavo pericare nel cavo scusatemi addominale appare nero un versamento pleurico sulla sinistra e un versamento ascidico sulla destra qui vedete una serie di grigi sono tessuti normali in basso abbiamo un testicolo qui abbiamo il fegato qui abbiamo la milza qui abbiamo in questa zona qui il pancreas ed infine l'aria vedete contenuta in addome a sinistra e nel polmone a destra che appare essenzialmente come una linea fortemente ecogena eccola qui dietro la quale ci sono questi artefatti orizzontali paralleli tra di loro tutti i posti alla stessa distanza dalle linee ecogene iniziale che si chiamano artefatti da riverberazione poche note sul controllo della macchina dobbiamo accenderla innanzitutto quindi trovare il tasto di accensione dobbiamo selezionare la nostra sonda se abbiamo a disposizione molte sonde dobbiamo eventualmente valutare i preset noi possiamo sulla macchina cioè farci montare dal tecnico dei preset adatti per esempio allo studio delle carotidi piuttosto che della vena porta possiamo praticamente avere un pulsante di profondità possiamo regolare i nostri guadagni ma tutto questo lo faremo meglio alle esercitazioni pratiche possiamo fermare l'immagine che ci serve sostanzialmente a misurare possiamo praticamente modificare e invertire le nostre sonde possiamo fare delle foto e dei filmati di tipo fotografico molto utili soprattutto se facciamo procedure di tipo interventistico o di altro di altro tipo e se non ci sono domande dall'uditorio se non è completamente tramortito io passerei alla diciamo alla anatomia di base del polmone del torace in particolare allora non è una nuova tecnologia bastano le sonde che utilizziamo in ecografia da oltre 50 anni non è una nuova scoperta perché le prime segnalazioni sono veramente di circa 50 anni fa fa fatica come diceva la nostra diciamo il nostro direttore proveniente da Milano ad emergere in campo internistico perché c'è una resistenza che direi che è soprattutto culturale più che una resistenza diciamo reale ed è un'anatomia semplice ha una curva di apprendimento abbastanza rapida e diciamo bisogna riconoscere gli elementi diciamo anatomici fondamentali da alcune sindrome ecografiche fondamentali di cui vi parleranno i miei colleghi se vogliamo proprio dirla in soldoni l'anatomia diciamo ecografica di un fegato normale è fatta da due immagini ecografiche fondamentali da due immagini di parete che sono la parete delle costole e la parete della linea pleurica da due artefatti che sono il cono d'ombra posteriore e gli artefatti da riverberazione e da due movimenti perché la linea pleurica si muove normalmente perché la pleura parietale la pleura parietale scivola sulla pleura viscerale e perché la linea pleurica in condizioni normali riceve la trasmissione del battito cardiaco come sapete quello che per noi è importante in anatomia toracica e in anatomia del polmone è la identificazione della linea pleurica sapete che la parete toracica è fatta scusatemi è fatta diciamo dalla cute e dal sottocute è fatta dai muscoli è fatta dalle costole e dai muscoli intercostali e immediatamente al di sotto delle costole i muscoli intercostali c'è l'immagine della pleura non siamo in grado di distinguere la pleura parietale dalla pleura viscerale ma i foglietti pleurici si appaiono come un'unica entità anatomica e c'è una perfetta corrispondenza tra quella che è l'anatomia diciamo normale e quella che è l'anatomia ecografica qui con quale sonda sto lavorando? una lineare ricordo sempre che la lineare è la migliore sonda per poter identificare la linea pleurica vedrete tuttavia dalle esercitazioni che se non disponiamo di questa sonda possiamo utilizzare normalmente una sonda ecografica di tipo convex e come vedete praticamente noi abbiamo la rappresentazione dei primi spazi gli spazi sottocotanei abbiamo la rappresentazione degli spazi muscolari abbiamo la rappresentazione delle costole che come vedete appaiono come una struttura ecogena con il cono d'ombra posteriore e infine abbiamo la rappresentazione ecografica della linea pleurica che appare come una linea sottile di pochi millimetri bianca che come vedete collega i coni d'ombra di due costole vicine quindi è molto facile di riconoscere ed è molto riproducibile questa immagine se noi ricordiamo che le due costole danno i coni d'ombra e che tra i due coni d'ombra la linea bianca che si vede al di sotto delle due costole è la rappresentazione ecografica normale della pleura ricordo solo dal punto di vista anatomico che quando noi andiamo a riferirci allo spazio anatomico pleurico partendo dalla posizione toracica anteriore portandoci più posteriormente passiamo sempre più diciamo in profondità passando dal sesto all'ottavo spazio all'ottava costola in anteriore ottava alla decima in laterale decima dodicesima in posteriore quali sonde utilizziamo utilizziamo sonde lineari abbiamo detto sono ottimali per lo studio della parete e della pleura ma utilizziamo anche le sonde convex che utilizziamo quasi sempre a livello diciamo del ipocongio destro e sinistro facendo delle scansioni attraverso il fegato e attraverso la milza per poter vedere praticamente i versamenti pleurici possiamo utilizzare scansioni nel torace di tipo trasversale obliquo longitudinale ma se posso dare un suggerimento e lo vedremo alle esercitazioni inizialmente conviene sempre che noi utilizziamo delle scansioni longitudinali questo offre a considerare la possibilità di poter interfacciarsi con due costole diverse e riconoscere le due costole diverse con i coni d'ombra che partono dalle costole ci consente di vedere molto bene la linea pleurica possiamo quando siamo diventati più bravi inserire le nostre sonde nello spazio intercostale e quindi fare delle scansioni che non tengano conto del riferimento anatomico della costola per metterci tutti d'accordo nel 2012 è stato pubblicato questo documento di linee guida nei quali ci dicono come effettuare nella pratica l'ecografia del polmone le linee guida ci dicono che noi dobbiamo per ogni emitorace suddividerlo in quattro quadranti attraverso delle linee verticali che passano in parasternale ascellare anteriore e ascellare posteriore e una linea orizzontale che passa nel solco intermammillare facendomi prestare questa animazione da Antonio Schiacciano come vedete abbiamo una linea parasternale una linea ascellare anteriore una linea ascellare posteriore e una linea trasversale che delimita appunto quattro quadranti quadranti anteriori superiori e inferiori quadranti laterali superiori e inferiori i colleghi che lavorano in terapia intensiva utilizzano anche un secondo approccio oltre a questi quattro quadranti un approccio che preveda anche la valutazione dei quadranti posteriori il quadrante 5 e il quadrante 6 ovviamente la posizione della mia sonda dipenderà essenzialmente da quale è il quesito clinico che io mi pongo quindi effettueremo delle scansioni alte soprattutto diciamo in parasternale se il nostro obiettivo è quello di riconoscere un premotorace per motivi gravitazionali l'aria si sposta verso l'alto quindi io mi metto in una posizione che faciliti la visualizzazione dell'aria nel cavo pleurico se devo valutare versamenti ovviamente per motivi logici il versamento e l'acqua per gravità tende a disporsi in basso quindi utilizzerò prevalentemente delle sonde convex utilizzando come finestre acustiche il fegato e la milza se devo valutare una sindrome interstiziale avrò la necessità di scansionare almeno due aree per singolo emitorace ma queste cose poi le vedrete quando si parlerà di patologia e allora ecco la scansione che vi invito a fare inizialmente la scansione longitudinale perché vi fa riconoscere immediatamente le due costole con i coni d'ombra dietro le costole e immediatamente il riconoscimento della linea pleurica quando siamo diventati bravi ci mettiamo in scansione trasversale tra le costole non abbiamo più l'ombra acustica delle costole e vediamo molto bene come indicata dalla freccia la linea pleurica per facilitare la memorizzazione di questo elemento di semiologia ecografica è stato coniato il termine di segno del pipistrello che cosa significa segno del pipistrello vedete noi abbiamo praticamente la linea pleurica abbiamo le costole che ci danno gli artefatti che ci danno il cono d'ombra posteriori abbiamo gli artefatti orizzontali le linee A la linea pleurica appare come un corpo del pipistrello e le costole appaiono come le ali del pipistrello dalla linea pleurica partono degli artefatti il primo artefatto che avete riconosciuto è quello che in ecografia toracica viene definito linea A sono i normali artefatti da riverberazione dietro la linea ecogena della pleura abbiamo delle linee orizzontali e parallele alla linea pleurica ma anche in una condizione anatomica normale possono comparire anche delle linee che si chiamano B e sono degli artefatti di tipo verticale qui vedete praticamente le linee A abbiamo sostanzialmente le due costole con iconi d'ombra posteriore la linea pleurica e dietro la linea pleurica le linee A le linee orizzontali e parallele se ci mettiamo nello spazio intercostale senza l'interferenza delle costole vediamo ripetersi al di dietro della linea A delle linee orizzontali e parallele ma dalla linea pleurica possono sorgere come vedete asteriscati dall'immagine degli artefatti di tipo perpendicolare questi artefatti di tipo perpendicolare vengono definiti linee B chi vi parlerà diciamo del significato delle linee B vi dirà quanto sono da considerare fisiologiche e quanto diventano patologiche infine come vi dicevo le altre due conoscenze che dobbiamo avere la linea pleurica ha dei movimenti un movimento intrinseco allo scivolamento della pleura parietale sulla pleura viscerale durante gli atti respiratori questo movimento si chiama movimento di scivolamento gliding o sliding è un movimento trasmesso dalla pulsazione cardiaca sulla vostra sinistra vedete il movimento di scivolamento è molto ben visibile guardate sempre le due costole i coni d'ombra e la linea pleurica che si muove vedete anche al di dietro della linea pleurica gli artefatti orizzontali le linee A e invece sulla vostra sinistra qui potete vedere come vi è un piccolo movimento di pulsazione sulla linea pleurica che è la rappresentazione ecografica della trasmissione del battito cardiaco il cosiddetto pulse ovviamente il primo movimento il gliding è strettamente collegato alla frequenza respiratoria il secondo movimento il pulse è strettamente correlato alla frequenza cardiaca qui vedete una serie di filmati in cui si vede molto bene il movimento di scivolamento della linea pleurica scusate e ancora qui vedete il movimento praticamente di scivolamento della linea pleurica con sonda lineare posta all'interno dello spazio intercostale se vogliamo avere un'ulteriore possibilità di visualizzare questo movimento possiamo accendere il pulsante dell'MMOD che è tanto caro ai cardiologi e voi vedete come sulla sinistra il movimento di scivolamento della linea pleurica vi viene definito da questa rugosità da questo aspetto rugoso posteriormente alla linea pleurica che ha preso il nome di sea shore sign il segno della spiaggia perché ovviamente somiglia molto alla granulosità della spiaggia dove la linea pleurica è la rappresentazione del confine con il mare infine c'è il mare e l'orizzonte come dico sempre gli ecografisti lavorano al buio sviluppano un animo di tipo depressivo quindi sono avvezzi diciamo a fare queste valutazioni di carattere romantico il movimento della linea pleurica lo possiamo vedere anche alle basi del torace qui come vedete siamo con una sonda convex sul fegato e vedete che questo movimento di scivolamento della pleura parietale sulla pleura viscerale che è stato chiamato segno della tendina vedete da che cosa è realizzato questo artefatto della tendina è realizzato dal fatto che se vedete in questa rappresentazione anatomica lo spazio pleurico durante l'ispirazione il polmone scende noi siamo in questa posizione vediamo il polmone scusatemi non riesco a tornare indietro vediamo il polmone diciamo scendere e dal punto di vista ecografico osserviamo questo scivolamento vedete una tendina che scende in questo caso a coprire la milza durante le fasi di ispirazione del paziente la stessa cosa la possiamo cogliere sul fegato a destra vedete che il movimento di scivolamento della linea pleurica viene evidenziato con questo movimento a tendina in cui praticamente il polmone copre una parte del fegato ed è detto segno della tendina perché appunto sembra una tenda di un teatro di un sipario che si sta chiudendo sul palcoscenico io ho finito qui se ci sono domande sono a vostra disposizione spero di essere stato abbastanza chiaro e niente do la parola al prossimo relatore grazie grazie